sembra c'è la difficoltà di questo ballo sta tutto nella formazione occhio, mano, pieto, orecchio e soprattutto è tutto platto e adesso giro Vito 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 RAY! 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 www.gibitalia.it il sito ufficiale dei Ghostbusters troverete tutte le informazioni su dove trovarli, come trovarli e soprattutto fare la vostra armatura il vostro corpo che ci chiamano è il baggiamento protonico è lui e ricordate che non incrociate i flussi mi sembra di aver visto un ectoplasma a livello 9 coppia davanti a voi, eccolo qua eccolo eccolo ma che è quella in città? no 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 no